Buonasera! Buonasera! Eseguiremo un pezzo straordinario. Ma che narici ha? Dalla fattura numero 10 per prestazione occasionale. Eseguiremo codice fiscale. Andantino allegretto moderato con aliquota diminuita e ritenuta da conto. Ma senta! Prego! Come può cantare? Mi loo! Ha chiesto una nota! Che carini però! Ma lo prende? Fucile per cortesia! Sta cantando un codice fiscale! Ma uno fuma il sigaro però! Si ma... Cosa fai? No! Non si beve quella roba lì! Che schifo! Eh beh! Senti che è diverso! È diverso! Certo! Oh oh oh! Mi fratello!